Quake 2 è stato effettivamente rilasciato di nuovo in versione remastered, Atlas Fallen è uscito oggi e diciamo che i resoconti sono un po' misti, per così dire, le recensioni e soprattutto l'ultimo report finanziario di Sony mostrerebbe forse diversi ritardi in arrivo per tutti i first party. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora gente, parliamo spesso di come i first party di Sony quando arrivano sul mercato lasciano effettivamente molto tempo sul tavolo per parlare di sé e attirano veramente tantissima attenzione e sono alcuni dei prodotti meglio realizzati e soprattutto dei prodotti che diciamo stanno nei tempi. Però, però, ultimamente pare che le cose stiano un po' cambiando perché l'ultimo report finanziario parrebbe, diciamo, preannunciare dei ritardi piuttosto importanti. Giochi PS5, ritardi in arrivo per i first party, l'allerta di Sony nel report finanziario. Con l'obiettivo di vendere 25 milioni di PlayStation 5 entro il marzo 2024 si amplia lo sguardo della dirigenza Sony sugli sviluppi commerciali attesi nell'anno fiscale 2023-2024. Il primo tassello si è concluso il 30 giugno 2023 con i termini del primo trimestre dell'anno fiscale in corso. Per fare punto alla situazione con gli investitori, i vertici del colosso giapponese hanno di recente condiviso alcuni dati salienti all'interno di un nuovo report finanziario. All'interno del documento figurano, tra le altre cose, anche le previsioni di crescita relativa al settore gaming di Sony. Nel descrivere le previsioni di crescita, l'azienda mette in luce un dettaglio importante, ovvero l'impatto negativo generato da cambiamenti nelle date di lancio di una parte dei titoli first party. E questa è una cosa abbastanza importante. Perché è abbastanza importante? Perché è di fatto la punta di diamante dell'offerta Sony. Nel documento non sono citate le produzioni specifiche che saranno interessate dai rinvii, ma a questo punto è certo che alcune delle software house parte di PlayStation Studios hanno avuto necessità di più tempo del previsto per terminare i propri progetti. Il progetto che abbiamo confermato più vicino è ovviamente Marvel's Spider-Man 2, che arriva il prossimo 20 ottobre su PS5. Evidentemente si riferiscono ad altri titoli. L'articolo mette luce sul gioco multiplayer di The Last of Us. E anche Marvel's Wolverine, il gioco di Fair Games. Insomma, bisogna capire una cosa ragazzi, ovvero quando si parla di giochi first party Sony si riferisce ai giochi che sono degli studi, dei PlayStation Studios. Ok? E quindi dei giochi che con tutta probabilità arriveranno esclusiva a PlayStation. E abbiamo tutti in mente quali giochi sono, no? God of War, Spider-Man, il cui 2 deve uscire tra un po', si tratta di Horizon, si tratta di The Last of Us, si tratta di Uncharted, probabilmente. Ecco, quando si parla di first party di Sony si pensa a questi. E quindi sentire che questi giochi avranno dei ritardi rispetto al passato lascia un po' perplessi, giusto? Però io temo che non si riferiscano a quei first party lì, perché c'è tutta un'altra categoria di first party che in realtà sta per arrivare sul mercato o arriverà sul mercato un po' verso la fine di quest'anno, molto più probabilmente nel 2024. Ovvero tutti i famosi live service di Sony, ovvero tutto l'insieme di titoli che dovranno essere game as a service, cioè dei giochi che andranno supportati nel tempo, su cui Sony sta investendo veramente tantissimo nell'ultimo periodo. Tanto da prendere buona parte del budget della realizzazione di videogiochi da qui ai prossimi anni. Si arriverà anche al 60% di fondi dedicati nello specifico ai live service. Quindi, con tutta probabilità, ci sono alcuni giochi che sarebbero già dovuti uscire o magari avremmo già dovuto avere una data d'uscita, se non altro. E l'esempio di The Last of Us multiplayer, secondo me calza a pennello, perché, se ricordate bene, non molto tempo fa era arrivato un report che voleva il gioco, diciamo, non esattamente soddisfacente magari alla parola sbagliata, però, insomma, pare che Naughty Dog stia avendo dei problemi con questo multiplayer di The Last of Us, pare che alla fine non soddisfi le aspettative. E sono pronto a scommettere che sia quello uno dei progetti che, a quanto pare, richiede più tempo. Quindi, secondo me, questi ritardi non si riferiscono tanto a Spider-Man, God of War, Horizon, eccetera, i classici giochi single player first party Sony, bensì tutti questi altri. E questa, ragazzi, è una cosa piuttosto significativa. Ci sta che, ovviamente, i primi tentativi, perché di fatto sono primi tentativi veri e propri, nel senso quelli seri di Sony, in questo campo possono avere degli, diciamo, degli ostacoli o possono metterci più tempo del previsto, quindi non è che sia chissà quale enorme problema o chissà quale sorpresa. Però è significativo il fatto che anche studi molto noti e che hanno già dimostrato di realizzare dei prodotti di primissimo ordine, a quanto pare, stanno avendo un po' di difficoltà, almeno secondo quella che è la mia interpretazione e credo che sia la cosa più logica da pensare. Stiamo a vedere che cosa verrà fuori nel prossimo periodo, ragazzi, ma, insomma, questi live service di Sony sembrano andare un po' per le lunghe e sembrano essere meno convincenti di quanto non si pensasse, perlomeno pare. Nelle ultime ore è uscito un gioco che aveva destato la curiosità di molti e questo gioco è Atlas Fallen. Il nuovo action GDR di Deck 13, che non è un Souls-like a sto giro, ha attirato abbastanza attenzioni. Adesso il gioco è uscito e quindi vediamo un po' qual è stato il risponso della stampa e anche un po' dell'utenza, diciamo così. Atlas Fallen ponte a combattere il trailer di lancio del nuovo action GDR di Deck 13. Dopo aver offerto la pop interpretazione del sottogenere Souls con titoli come Lords of the Fallen, nel 2014, The Surge 1 e 2, Deck 13 propone un nuovo action GDR ambientato tra le dune del deserto. E Atlas Fallen è da oggi disponibile su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series XS e si scatena sul suo trailer di lancio. Ispirato a titoli come God of War e Horizon di Sony, più che i Souls di From Software, mi viene da dire quasi più Darksiders che altro, Atlas Fallen si caratterizza per un'esperienza di gameplay altalmente frenetica e spettacolare, arricchita un combat system dinamico, un sistema di movimento agile e immediato, gioco disponibile per acquisto anche nella sua limited edition, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quindi, c'è il trailer di lancio e il gioco è più o meno questo. Ma per quanto riguarda le recensioni, beh, diciamo che io ne ho viste un po' e onestamente sono 50-50 anche forse 60-40 sul più o meno negativo, nel senso che è un gioco che sembra voler fare parecchie cose, però quelle che sta facendo non sembrano centrare il bersaglio. E infatti una delle recensioni, che è quella di Multiplayer, che vi consiglio di leggere, abbastanza lunga, dice proprio questo. La nuova fatica di Deck 13 esiste in un limbo che ci ha ricordato titoli di culto come Darksiders e Kingdoms of Amalur e forse è proprio per questo che le ore trascorse del desertico mondo del gioco ci hanno convinto meno di quanto avessimo sperato, dicono. Nella nostra recensione vi spieghiamo perché quest'opera potrebbe meritare una chance, magari però a un prezzo scontato. Se andate online, ragazzi, ormai le recensioni fioccano, ok? E non si tratta soltanto delle riviste, ma anche molti content creator hanno detto la loro. E purtroppo mi sento di dire, ragazzi, che effettivamente il sentire un po' generale è che questo gioco ha molte caratteristiche interessanti, delle buone idee e alcune cose che sono davvero divertenti. Questo più o meno tutti l'hanno detto, diciamo, secondo una certa gradazione. Però complice la realizzazione tecnica non proprio fantastica e le performance del gioco che non è che brillino poi così tanto e io adesso l'ho provato per all'incirca un'oretta e mezza, adesso ve ne parlo, nei limiti ovviamente, e il gioco in generale sembra non essere particolarmente ispirato proprio perché le idee, per quanto buone, sembrano essere realizzate con la cura necessaria per un gioco di questo tipo. Ovvero molto frenetico, molto incentrato sul combattimento, molto sul girare di qua e di là in questo open world. Io ho come l'impressione che Deck 13 abbia, come si dice, no? Azzannato un osso un po' troppo grande con questo titolo qua. Perlomeno questa è la mia impressione. Io l'ho giocato un'oretta e mezza, ragazzi, e tra i vari problemi tecnici su PC che stranamente si sono verificati, che strano, eh? Effettivamente il gioco ogni tanto hai la sensazione che sia un po' mediocre. Lo dico senza essere troppo... cioè non dovete leggerla troppo cattiva questa cosa. In fondo il gioco funziona e mano a mano che si va avanti si scoprono nuove cose. È un gioco che ha un certo approccio, un approccio anche abbastanza creativo nonostante tutto, non è proprio il super classico action-adventure, però ogni volta che fai delle determinate cose non puoi fare a meno di pensare effettivamente la realizzazione di questa cosa qui potrebbe essere un po' meglio. Ora, io mi fermo qua perché, ripeto, l'ho giocato soltanto un'ora e mezza, la mia opinione la dovete considerare super, 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 sottolineato tre volte, provvisoria. Però devo mostrarvi anche quello che sta succedendo, diciamo, online e le opinioni non sono delle migliori. Non è necessariamente una stroncatura, nel senso non è che ha ricevuto dei voti orribili, però non ha ricevuto neanche dei voti altissimi. Quindi, insomma, andate a informarvi un po' anche voi, leggete un po' di recensioni, guardate un po' di gameplay e fatevi un'idea. Il titolo, comunque, costa qualcosa in meno rispetto ai, diciamo, ai AAA di spicco e mi viene da dire che forse c'è un motivo. Lascia un commento a questo video e di la tua opinione, così Chris la può leggere, può rispondere, l'algoritmo di YouTube è contento e il video quindi va bene e Chris è felice. Scrivi un commento, così Chris è felice, la discussione si allarga e le cose. Ora, torniamo alle news. La prossima gen di console si è basata principalmente e addirittura totalmente su servizi cloud gaming, a me non sembra un'ipotesi azzardata questa. Allora, diciamo questo, il gaming in cloud, l'abbiamo detto tante volte ragazzi, è effettivamente una situazione promettente perché il concetto è quello di saltare completamente la console, il che ti comporta un risparmio notevole e se giochi tramite internet e il gioco gira su macchine che sono da un'altra parte, cioè su un server a parte, tu ti risparmi questo acquisto, non c'è questo tramite e semplicemente giochi premendo un paio di bottoni. No? Ecco, quindi sulla carta tutto questo è veramente ottimo ed è per questo che per esempio Google con Stadia aveva provato a fare un servizio che saltasse completamente tutto questo e si basasse esclusivamente sul cloud. Ora, come mai Google Stadia è però fallita? Principalmente per due ragioni. La prima è che l'offerta commerciale non era un granché, cioè comprare i singoli giochi su Stadia ti condannava ad averli soltanto lì, per esempio a poterli giocare soltanto in cloud e onestamente un servizio come questo sarebbe stato molto meglio tramite abbonamento, ok? Tanto che, a mio parere, l'offerta migliore presente sul mercato, diciamo a livello commerciale, non a livello tecnico, intendo è xCloud perché se tu ti abboni a Game Pass Ultimate hai tutta quanta la libreria disponibile da giocare, non proprio tutta, nel senso perlomeno sulla carta hai tutta quanta la libreria e quindi li funziona. Quindi Google Stadia è fallita perché effettivamente l'offerta commerciale non era un granché ma la tecnologia era veramente buona. Molte persone che giocavano spesso su Stadia me ne hanno parlato spesso come effettivamente siano stati molto soddisfatti del servizio Stadia al di là della scelta commerciale dell'acquisto di ogni singolo gioco, quello che abbiamo appena detto però hai fallito lo stesso, come mai? Perché vuoi o non vuoi ancora adesso, al giorno d'oggi, anche se le connessioni internet con una certa velocità stabilità e su cui si può fare affidamento mano a mano, giorno dopo giorno, diventano sempre più comuni comunque riguardano ancora una percentuale della popolazione che è troppo bassa e intendo connessioni internet su cui si possa fare affidamento al 100%. Non è solo questo il fatto che la tecnologia di ridondanza che fa sì che virtualmente non manchi mai internet ancora non c'è, a me è successo spesso, per esempio, nonostante che io abbia adesso una fibra veramente velocissima e ogni tanto succede che salta internet a volte per un'oretta, a volte per due giorni, maledizione e sono disservizi che possono capitare e se succede questo tu sei fuori, no? E questo non va bene. Prima di avere un gaming in cloud che sia effettivamente diffuso e che possa potenzialmente sostituire completamente o comunque essere percepito come un'alternativa del tutto fruibile dalla maggior parte delle persone al gaming in locale tramite console, pc o che dir si voglia, ecco, deve passare ancora un po' di tempo la tecnologia deve migliorare allo stato attuale e nelle previsioni reali, non quelle fantasiose del mondo degli unicorni il gaming in cloud è una nicchia ancora si sta espandendo quindi le aziende stanno investendo per non trovarsi impreparate per il futuro e potrebbe essere il futuro ma mi pare difficile che sarà il futuro già nella prossima generazione di console siamo nel 2023 la prossima generazione di console arriverà fra 4-5 anni in 4-5 anni ci sarà una situazione tecnologica tale che le connessioni internet saranno così semplici abbordabili, diffuse e velocissime e senza latenza, eccetera, eccetera da permettere un gioco quasi indistinguibile tra console e cloud o tra pc e cloud io ne dubito, onestamente senza considerare il fatto che devono essere così anche le reti mobile perché moltissime persone giocano in mobilità tipo con la Switch giusto? o tramite wifi o quello che deve essere quindi eh secondo me ci vuole ancora un po' secondo me qualche cosa si potrebbe dire non nella prossima generazione ma in quella ancora per adesso però io credo che il gaming locale sia qui per restare ancora per un bel pezzetto e ora passiamo alle news a ruota ragazzi Everywhere sarà la Gamescom novità in arrivo per l'open world del papà di GTA la protagonista della Gamescom 2023 potrebbe anche esserci l'open world creativo del papà di GTA Everywhere sono gli stessi ragazzi al seguito di Leslie Benzies l'ex presidente di Rockstar North nelle facciarsi sui social dicono che ci sarà quantomeno la pubblicazione di un nuovo trailer ricco di dettagli su contenuti di lancio e sulle attività da svolgere multiverso virtuale plasmato da Builder Rocket Boy destinata a primi battenti entro la fine dell'anno così pare ma io ci credo quando lo vedo questa cosa qui come suggerisce lo stesso pseudo sondaggio condiviso in questione sui social dagli autori a seguito di Benzies Everywhere sin dal lancio darà l'opportunità di accedere a Utropia un gigantesco hub che ospiterà tutti coloro che vorranno esplorare gli universi videoludici creati e gestiti alla community e dagli stessi sviluppatori ragazzi questo titolo qua è uno dei più ambiziosi e col potenziale più enorme sconvolgente che ci sia al momento è proprio per questo mi dà un sacco da pensare e che mi pare difficile che non abbiamo visto assolutamente niente e il gioco verrà lanciato entro quest'anno continua a sembrarmi una cosa poco realistica molto probabilmente slitterà al 2024 e sono molto curioso di vedere che cosa questo gioco offrirà e come funzionerà veramente perché davvero ragazzi questo titolo ha un potenziale enorme comunque staremo a vedere ragazzi io non vedo l'ora non vedo l'ora poi Quake 2 Remastered è ufficiale ne avevamo parlato ed eccolo qui l'FPS Cult è già disponibile su PC Console e Game Pass quindi nel momento in cui vedete questo video c'è già se avete il Game Pass per esempio c'è sono andato a vedere prima infatti l'ho scaricato lo vedrete nella puntata proviamolo di domani probabilmente ok i leak sull'imminente lancio di Quake 2 Remastered vengono confermati da Microsoft e Bethesda con l'avvenuta commercializzazione in molti piattaforme e l'edizione attualizzata e lo sparatutto culto targato ID Software esperienze di gioco autentica dell'FPS originario con supporto 4K e widescreen diverse migliorie per modelli poligonali animazioni sangue intelligenza artificiale dei nemici originari nel 97 filmati ricostruiti ad alta definizione colonna sonora di Sonic Mayhem e numerosi interventi grafici illuminazione dinamica approfondità di campo effetti particellari antilizing eccetera 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 d'accordo? sono anche i due pacchetti missioni originali di Reckoning 18 livelli della campagna 7 mappe deathmatch e Ground Zero che comprende 15 livelli della campagna e 14 mappe deathmatch oltre tutto una nuova esperienza single player multiplayer sviluppata a machine games e Call of the Machine porta i giocatori nelle profondità dello spazio per fargli affrontare ben 28 livelli della campagna e gli abomini alieni che infessano la mappa deathmatch insomma un pacchettino sfizioso di un quake che effettivamente è fine anni 90 ragazzi quindi è un gioco parecchio retro è proprio il boomer shooter questo qui però in versione rimasterizzata e credo che abbia ancora molto da offrire quindi se vi interessa questo tipo di giochi andatelo a scaricare adesso da Game Pass poi ufficiale ne avevamo parlato a quanto pare è veramente così Embracer Group chiude Can Fire Cabal e forse non si fermerà qui era nell'aria e arriva la conferma ufficiale confermare la notizia è stato Bruno Christian Bellibu executive producer per THQ Nordics è ora di cercare un nuovo lavoro dice a giugno è stata presa a Embracer la decisione di licenziare ogni impiegato nel mio studio in conseguenza è un processo di ristrutturazione di Embracer annunciato nello stesso mese Bellibu e la sua squadra hanno lavorato sia su Hitman che su Expeditions e avevano in ponte un progetto per la creazione di un gioco di ruolo e un narrativo di alta qualità sebbene l'abbiamo tentate tutte per ribaltare la situazione e trovare una nuova casa per questa squadra il tempo è stato il nostro più grande nemico tuttavia lo studio di Can Fire Cabal in realtà apri pista di una serie di ristrutturazioni pianificate da parte di Embracer Group un progetto che la società ha annunciato meno di due mesi fa e coinvolgerà anche altri team con potenziale chiusura di ulteriori studi purtroppo queste ristrutturazioni sono piuttosto frequenti e Embracer Group aveva investito tantissimo si stava espandendo da morire probabilmente hanno un po' esagerato qualcosa deve essere andato stort e adesso devono rientrare un po' purtroppo è molto triste per le persone che lavorano in questi studi spero tanto che trovino velocemente un'altra sistemazione adeguata però purtroppo è così che va il mercato perciò non c'è molto altro da dire peccato per i giochi che sarebbero potuti uscire da lì ma chissà che non escano da altre parti poi Mortal Kombat 1 avvistata Invasions la nuova modalità single player spunta in Brasile un utente reddito originario del paese latino americano riferisce aver realizzato una scoperta al momento del preordine del gioco presso un negozio locale appassionato si è trovato di fronte a una pubblicità in Mortal Kombat 1 che riporta anche un'immagine retta della confezione del picchiaduro e su quest'ultima non ho posto dei dettagli battizzata Invasions e dovrebbe essere una nuova modalità single player sulla cover si legge attraverso i rami di Mortal Kombat facendo fronte a invasori di ogni epoca è un'esperienza giocatore singolo completamente nuova non ci sono conferme da NetherRealm perciò dovremo attendere e manca poco alla partenza della closet beta quindi magari ne sapremo di più però è interessante che ci siano nuove modalità per un gioco che ormai comincia ad avere i suoi anni nel senso le varie modalità di Mortal Kombat sono abbastanza collaudate quindi sentire che ne hanno inserite delle nuove è una cosa molto buona speriamo che siano divertenti d'accordo? ah sì a proposito c'era anche la conferma della presenza di Reptile Ashra e Avic che bello Reptile era un po' che non lo vedevo poi On Case Air Rail vola a proposito di soldi eccetera ecco chi li fa veramente nei primi tre mesi incassati 500 milioni di dollari in tre mesi sì On Case Air Rail si è dimostrato un successo nei primi tre mesi al lancio globale il gioco è infatti incassato alla bellezza di 500 milioni di dollari quasi quanto guadagnato nello stesso periodo da Genshin Impact già se arrivi soltanto a paragonarti ai soldi fatti da Genshin Impact vuol dire che proprio sei nella stratosfera e va bene secondo i dati registrati su AppMagic On Case Air Rail ha generato oltre 6 milioni di dollari nelle prime 24 ore superando Genshin Impact per l'entrata del primo giorno ma vabbè Mioio non era così grande prima ok quindi Genshin Impact è stato un'apripista senza dubbio nientate i app del gioco hanno superato i 130 milioni di dollari un mese dopo il suo lancio globale e oltretutto deve ancora arrivare su Playstation ha generato anche 19 milioni di download a livello globale in ogni caso Cina e Giappone rimangono i due maggiori ganci di traino delle entrate i giocatori su mobile hanno speso un totale di 500 milioni di dollari dal 26 aprile al 25 luglio secondo i dati illustrati da Sensor Tower si tratta di una cifra astronomica se pensiamo che Genshin Impact ha generato 515 milioni di dollari nei suoi primi tre mesi poi c'è stato il boom e quindi i miliardi di dollari sono cominciati a volare quella è un'altra questione però questo è è una delle cose che ogni tanto bisogna ricordarsi ragazzi cioè quando si parla di chi veramente fa i soldi nel mondo del gaming ecco questi questi fanno veramente i soldi nel mondo del gaming andiamo avanti va parliamo di Baldur's Gate 3 va che è stato che pare essere veramente un successo enorme il che mi fa molto piacere perché oltretutto ne avevamo parlato proprio ieri a quanto pare ha sorpassato ufficialmente Tears of the Kingdom su Metacritic ve la faccio breve ragazzi al momento ha raggiunto un punteggio Metascore di 97 ovvero il gioco Metacritic con il punteggio più alto di quest'anno ok superando Zelda Tears of the Kingdom il che è da solo una cosa allucinante e la progressione che il titolo ha registrato è stata pazzesca e l'ascesa non accenna a diminuire e si ricorda che Baldur's Gate 3 è il più preordinato sul Playstation Store che fra tutte le cose il Metacritic gli 800.000 giocatori su Steam questa mi sorprende ancora di più perché non mi sembrava proprio un gioco da console questo qui ma a quanto pare invece bene non trovate? bene così e oltretutto c'è l'ultimo hotfix per chi volesse qualche informazione c'è una lista andatela a leggere nel dettaglio insomma già una patch piuttosto importante poi EA purtroppo chiuderà i server di Crysis 3 Dead Space 2 e Dante's Inferno non c'è molto altro da dire attraverso la sua pagina dedicata a supporto online EA ha comunicato che entro la fine dell'anno chiuderà i server di Crysis 3 Dead Space 2 e Dante's Inferno purtroppo sono cose che capitano se il gioco non è poi così particolarmente vivo EA decide semplicemente di liberare risorse e mettere altrove non so se poi deciderà di lasciare aperta la possibilità ad altri di appoggiarsi a delle formule diciamo custom però quando si tratta di multinazionali questa cosa di solito non è tanto possibile quindi beh staremo a vedere se qualcosa verrà fuori e in ultimo ragazzi prima dell'indiscrezione oggi è uscito anzi veramente era ieri se non sbaglio Stray Gods The Role Playing Musical ecco il trailer per celebrare l'uscita questo gioco qui è un'avventura story driven con forti elementi ruolistici e di molta componente di musical proprio è finalmente arrivato sul mercato videoludico sono i ragazzi Summerfall Studios e Humble Games da cui mi servo spesso io per esempio 10 agosto 2023 quindi è uscito ieri Stray Gods The Role Playing Musical è un'avventura ricca di storie sviluppata Summerfall Studios i giocatori impersonano Grace in un mondo in cui le divinità greche vivono nascoste da noi usate il potere della persuasione musicale per attirare nemici amici nemici e amanti bene sì c'è anche questo tema però io l'ho provato ragazzi lo trovate nella serie proviamolo sul secondo canale youtube oggi alle 15 esce quindi andate a seguirmi anche là se ancora non l'avete fatto il gioco sembra promettere molto bene l'ho soltanto provato quindi vi posso dare solo una prima impressione però sembra essere fatto molto bene perciò se vi intriga un po' lo stile sapete dove andare a cercare e infine in discrezione direttamente da Reddit pare che un ex impiegato di Rockstar sembra aver messo sul suo profilo LinkedIn di aver lavorato non solo a GTA 6 dal 2015 ma anche a Bully 2 e 3 beh va preso un attimino sì il 3 potrebbe essere un errore probabilmente solo Bully 2 la cosa va presa un po' con le pinze però sembra essere confermato il fatto che il progetto esistesse no? e poi però fosse stato bloccato di fatto ok? però questa è una cosa che non sapremo fino a quando Rockstar non ci dice qualcosa di ufficiale che ne abbiamo parlato tantissimo ma ancora non si sa niente e per quanto riguarda l'offerta del giorno vi do il gioco del giorno che è Atlas Fallen sapete ne abbiamo parlato prima che le recensioni non sembrano proprio entusiastiche però allo stesso tempo magari è un gioco che vi attira lo stesso e se così fosse sappiate che sui stand gaming è in sconto già al 23% uscito da poche ore e costa 38 e 49 invece di 50 quindi decidete voi io vi ho dato un po' diciamo l'opinione generale che si sta dicendo di questo gioco io comunque lo giocherò e vi dirò di più in ogni caso se volete prenderlo ricordate come sempre che io sono partner ufficiale di instant gaming e se lo volete prendere attraverso il link qui sotto in descrizione dell'offerta del giorno è un link affiliato perciò è un buon modo per supportare il mio lavoro il canale e il format delle news bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come instagram e telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad amazon instant gaming e i link a patreon e anche il link alla playlist con tutte le crystal news che come sapete escono ogni giorno alle 7 su youtube e sul podcast a domani ragazzi